Benvenuti al corso di modellazione 3D con Tinkercad. Durante il corso imparerete i principi base della modellazione 3D, come modellare forme complesse e come adattare i vostri modelli per la stampa 3D. Io sono Ubaldo Betocchi, mi occupo di scansione e stampa 3D. Il corso è suddiviso in quattro sezioni. Alla fine di ogni sezione troverete un esercizio per testare le competenze acquisite. Bene, iniziamo il corso, buon lavoro a tutti!